Lazzaro Preziosi presenta Tramonto ad Est, come nasce l'idea di questo libro? Questo libro nasce da un'idea molto profonda, che avevo da sempre, fin da piccolo, di scrivere un libro. Sono partito stranamente dal titolo, cosa che in realtà non si andrebbe mai fatto. Però ponendomi questa domanda, che cosa è per me un Tramonto ad Est? Ponendomi questa domanda, ho scritto il libro. Il tutto è nato in una notte, dove l'ho sognato, durante l'inizio del lockdown, 10-11 marzo. E da lì è stato un fiume in piena, svegliandomi la mattina con un grandissimo mal di testa. E quindi deciso, l'ho scritto in poco tempo, e poi alla casa di Dice è piaciuto subito, e siamo arrivati in tempo record ad una pubblicazione. Possiamo dire che questa volta il mal di testa è stato produttivo. A proposito del titolo, c'è un simbolo particolare dietro questo Tramonto ad Est? Sì, allora, vorrei che ognuno, in modo anche presuntuoso, ognuno di noi ha un proprio Tramonto ad Est, che può essere visto sia in chiave positiva che in chiave negativa. E ognuno deve dare un proprio senso, infatti anche il libro è molto interpretativo, vuole esserlo. Diciamo anche che è un libro per tutti, si fa leggere, e la cosa che ho voluto proprio è che renderlo piccolo, semplice da leggere, è fruibile a quante più persone possibili. È uno simolo, ovviamente, Tramonto ad Est, per dare una risposta più completa alla tua domanda. Sì, la realtà è proprio, ti potrei fare anche io questa domanda, che cos'è per te un Tramonto ad Est? Cioè, è quello il concetto. Per me è la realizzazione di qualche sogno, futuribile o non futuribile, anche di qualche rimpianto probabilmente. Tutto dipende da come uno lo vuole interpretare. Interpretare le tue parole significa anche capire che all'interno del libro c'è molto di autobiografico. Sì, direi un 50 e 50. Non mi piacciono molto le autobiografie, però c'è molto di autobiografico. Io ho una storia particolare, per chi mi conosce ha frequentato un pochettino l'ambiente sportivo avellinese. Non sono nuovo, cioè, un pochettino conosciuto sono, quindi sanno tutto il mio escursus di vita. Ovviamente, diciamo, io l'ho abbellito, io ho fatto delle cornici intorno alla mia vita, mettendogli delle cose effettivamente successe e cose non successe. Però voglio che sia il lettore a decidere cosa sia vero e cosa sia falso, indipendentemente da se mi conosci o meno. E quanto è inciso proprio l'esperienza sportiva nello scrivere questo volume? Allora, dal punto di vista sportivo mi ha rubato molto tempo, perché negli anni, essendo una passione che ho sempre avuto, ma che non sono riuscito a coltivare, proprio perché lavorando sempre ad alti livelli, prima con l'Avellino Calcio, poi con la Scandone, non hai tempo. Vivi per la società sette giorni su sette, sei riperibile a H24, non hai vita. Questo poi è il lato oscuro del fisioterapista che lavora nel mondo sportivo, che non si sa, ma è giusto che non si sappia. Quindi è inciso poco. Però l'ambito sportivo ti dà tanti spunti, tante storie da raccontare. Però per la scrittura di questo libro, devo essere sincero, non ha influito. Anzi, lo ha solo procrastinato nel tempo. Sindaco, presente alla presentazione del libro di Lazzaro Preziosi, che naturalmente è una figura che nel mondo dello sport è molto conosciuto da Avellino, oggi invece lo conosciamo, invece in una forma diversa di scrittore. Ed è stata una bella sorpresa, una bella scoperta, e direi che poi vanno sempre sostenute queste iniziative, quando c'è un giovane che voglia anche di mettersi in discussione e di intraprendere, per certi versi, una carriera, comunque imboccare una strada nuova. È sempre bello vedere un po' di persone che lo sostengono. In questo caso la mia presenza è da sindaco, ma anche da appassionato di sport, da cittadino. Tra l'altro, devo dire, il libro è stato ben scritto, me ne era molto scorrevole, molto naturale. Insomma, è un piacere anche leggerlo. Invitiamo i nostri concittadini a farlo.